su sveglia lui buongiorno sofì ehi ma dove siamo finiti ci troviamo nel nostro videogioco wow ma è pazzesco entra anche tu nella nostra città e divertiti a creare il tuo mondo potrai personalizzare la tua casa il tuo personaggio e tutti i tuoi amici sono indecisa su quale vestitino mettere ehi ma non sarai solo perché insieme a te ci saranno tutti i personaggi me contro te infatti puoi aiutare pongo a preparare dolci per la sua pasticceria potrai fare delle torte buonissime e non dimenticarti di aiutare kira a prendersi cura degli altri animali potrai pulirli curarli e dar loro da mangiare questo è tanto altro nella nostra app me contro te world scaricala ora gratuitamente su telefoni e tablet apple e android buon divertimento